ok stiamo riprendendo ora stiamo ricaricando le armi ok stiamo ripulendo tutte le divise questo è l'aria compressa che serve per riempire l'arma qua abbiamo il dottor Pogorni che è morto vedete guarda quante ne hanno sparato è morto morto dottor Adrian ora ripuliamo tutto ricarichiamo le armi e ripartiamo abbiamo da fare fuori queste 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 reclute questi sono i fucciletti si mette praticamente ci sono delle pallette di vernice vedete le pallette di vernice queste partono con l'aria compressa quando arrivano addosso si aprono e quindi ti colorano in quel caso devi alzare la mano uscire dal campo di gioco l'ultimo che sopravvive è un guerriero c'è anche vasi vasi ha paura non si cambia non vuole entrare io preparo carne e tutto carne birra birra si facciamo il pranzo dopo qua stanno caricando vedete hanno appena caricato le armi ma stanno ancora caricando delle altre questo è un campo di gioco quello è l'altro campo di gioco qua c'è un team professionista di questo paintball che si chiamano i comandos sono veramente bravi ci hanno una delle delle pistoline che vanno veloce fanno tata tata rapide rapide vedete che questi li hanno colpiti quando ti colpiscono devi uscire dall'area di gioco io resto qua perché questi sono professionisti non vorrei farmi male se qualcuno si chiede fa male sì quando ti colpisce fa un po male senti che che brucia questi li hanno fatti fuori riprendono la sicura mettono la sicura al fuciletto e si inizia ora stiamo già rientrando dentro il campo di gioco andiamo a prendere il caschetto andiamo a prendere il caschetto andiamo a prendere il caschetto vedete si toglie la sicura si mette qua a quel punto devi mettere il caschetto come dottor adrian e puoi entrare andiamo mi raccomando sopravvivi almeno due minuti via via ok tieni ti lascio nooo no 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 è qui ci Sì, è successo.